Valentina e Lorenzo sono pronti a giurarsi amore eterno scrivendo un'altra pagina indelebile della storia del matrimonio Selargino. Sono loro i promessi sposi scelti dalla Proloco di Selargius, presentati oggi nella sala consigliare del municipio. Valentina, appena 21 anni, e Lorenzo, 25, saranno la coppia più giovane mai sposata con il rito de Sagoia Antiga Ceregina. E se il matrimonio è da sempre considerato da molti uno degli eventi più belli ed emozionanti da vivere e assistere, celebrarlo con un antico rituale del passato che richiama tradizioni simbolicari alla Sardegna, renderà l'evento ancora più carico di significato. Lo sanno bene i due promessi sposi che proprio nella scorsa edizione hanno pensato di sposarsi con il rito Selargino. L'emozione comunque è tanta anche perché abbiamo avuto pochissimo tempo per poter decidere il tutto, per poter realizzare il tutto, dato che non ci aspettavamo tempi così brevi. Ci rendiamo conto che comunque il matrimonio è tra 5 e 6 mesi, quanto è 5 mesi? Settembre. Quindi questo ci crea abbastanza emozione, parecchia emozione, ma siamo comunque felici. Una manifestazione impegnativa che mette in sinergia il comune di Selargino insieme agli altri enti e le associazioni su tutta la Proloco, soprattutto per la complessità nei preparativi di un rito unico al mondo. I preparativi sono già iniziati appena finito l'altro matrimonio Selargino, già dal mese di settembre, anche perché l'evento è un evento complesso che impegna molte e molte persone, per cui non ci fermiamo mai. È un proseguire l'evento di ogni anno da ormai 60 anni.